Ricordo per il regalo del mio compleanno quanta curiosità e finalmente eccola la mia prima bicicletta troppo bella e troppo grande ma c'era la mamma, gli applausi dei cudinetti, i consigli del vecchio nonno, il lungo viale del parco e dopo la mamma ci dava Nutella proprio come oggi la do a voi Mamma, tu lo sai, Nutella è sana per i tuoi bambini oggi come per te allora, Nutella Ferrero